Con la Presidente Roberta Minafro, Presidente appunto dell'Associazione Nuova Area Antica di Andrano, siamo nel luogo dove nasce la magia, dove vengono creati i carri allegorici. Esatto, sì, questo è il luogo dove quest'anno per il Carnevale Andranese 2024 stiamo preparando i carri allegorici. Come potete vedere siamo ancora nel clou dei lavori perché questa è la settimana più importante dove dovremmo finire tutti i carri entro domenica e quindi fare la sfilata. Domenica 11 e martedì 13 febbraio ad Andrano. Ecco, quali sono i temi dei carri di quest'anno? Allora, abbiamo diversi temi, il tema del Salento, l'usule, l'umare e l'uglientu, poi abbiamo il tema del Pirata dei Caraibi, poi Willy Wonka, la fabbrica di cioccolato, poi un omaggio alla musica e al grande Gigi D'Agostino, il Circo, il Figli dei Fiori, poi Country, perché alcuni carretti non sono neanche qui, però abbiamo veramente tanto, tanto, tanto da farvi vedere. È una cosa bellissima, io parlo non tanto con la voce ma col cuore perché veramente ci credo, ci credo a sta socializzazione tramite il Carnevale. Ecco, è bellissimo appunto questo tramandare le tradizioni, ma come vengono realizzati poi concretamente i carri, proprio in due parole? Beh, i carri vengono ideati poi subito alla costruzione, ideati senza passare su un foglio di carta, ma direttamente alla costruzione con dei ferri saldati e poi si parte per la costruzione finale che serve alla cartapista.